Andiamo alla radio e troviamo delle canzoni che non è che proprio ci piacciono Non piacciono né a noi né al nostro intestino crasso Allora io vorrei avere una domanda per Mohammed Abdul Ora è estate no? Si è fatta estate, si è fatto caldo, si è fatta spiaggia E tu a che cosa pensi? A disempegnire cadaveri Non mi sembra un'attività estiva ma assumiamo che sia così Qual è la cosa che pensi quando ti seppellisci i cadaveri? O meglio a quale artista ti ispiri? A Bull Zoom ma anche a Daddy Yankee Più al secondo che al primo Ragazzi allora siamo forse giunti a un momento di rottura col nostro passato Ma anche di non rottura col nostro passato Questo momento si chiama Non lo so come si chiama perché mancano i protagonisti principali Ma forse avete sentito che la settimana scorsa è uscita una nuova canzone E questa canzone si intitola Come si intitola? Esatto Per la prima volta nella storia della musica Verrà eseguito a Paderno Franciacorta un pezzo Reggaettor Metal E quindi preparatevi a ballare e a disseppellire cadaveri con i Network of Steel Per la prima volta nella storia All I wanna tell you is I put doula a Madonna I put up now Cuba libera mi pezzan, summer festai a drag Nellok Beach You were dancing like a polo killer whale When your blood burst, the ice runs with mine Corazón piquingo, te santo domingo, la idea sacchemana, la piña colada Vamos a belar, con te zola y tambar Vierano cubano, bailando pagano, tomando morito Vierano sacrificio, vamos a guardar, con te zola y tambar Profanar la tumba, a rimover la tumba, con el insidio al trono, Luigi al reggaeton Profanar la tumba, a rimover la tumba, con el insidio al trono, Luigi al reggaeton Esca vida loca, a mirar la boca, a salvo a un salón, Luigi al reggaeton Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.